Perciò che ci facciamo un genere in moto? Sì, dai. Vabbè, spostiamolo da qui perché anche partiamo e prendiamo qualcosa. Allora, io lo faccio qua? Sì. Basta solo metterci un po' di forza di volontà. Voglio di vuoto. Ma vabbè ma sei sicura? Guarda che qua la chiave non era girata, ora te la giro. Riprova, ma dai! Ma toglierla e rimetterla, magari... Ma quanto tempo ci hai fatto sprecare, dimmi te! Ah, vai, forza! Perché sempre a noi?